Questa è una maggioranza che non è una maggioranza che è stata messa in piedi con una visione strategica. Abbiamo messo in piedi una maggioranza che il giorno prima era collocata su posizioni diverse. Possiamo definirla di compromesso? Di compromesso e anche di risposta ad un'emergenza che io considero democratica che si stava determinando in Italia. Perché se il ministro degli interni pensa da una spiaggia di lanciare un messaggio che è quello di chiedere pieni poteri, di sostituirsi al ruolo del capo dello Stato mettendo in discussione il Parlamento e quindi annunciando elezioni. Il rischio è che dopo che hai alimentato la rabbia, il rancore sociale agendo sulle difficoltà della crisi è quella di avere una maggioranza che ti può portare a votare, ad eleggere. Un presidente della Repubblica quando scadrà il settennato del presidente Mattarella un presidente della Repubblica che ti mette fuori dall'Europa e che ti mette fuori dall'Europa. Quindi è una concreta anche questa preoccupazione. Allora, rispetto a questa preoccupazione abbiamo messo in piedi un governo con una maggioranza che ha al suo interno tante differenze. La fatica è quella di prendere gli argomenti individualmente, di provare a costruire un'intesa, di portarli a sintesi e di assumere la fatica che comporta lo svolgere una funzione di governo. Dopodiché noi sappiamo che questa maggioranza nel momento in cui finirà questa legislatura come io mi auguro che questa legislatura vada a termine nel 2023, a quel punto noi per esempio, lo dico, noi di Italia Viva e il Movimento 5 Stelle saremo collocati su posizioni diverse. Però ecco Ministro, mi consenta, lei capodelegazione di Italia Viva e tante preoccupazioni al presidente del Consiglio Conte arrivano anche esternamente da chi lo rappresenta, da Matteo Renzi? No, tanti suggerimenti e anche suggerimenti positivi perché io vorrei che il presidente Conte facesse un'intervista per dire che cosa arriva da Italia Viva. Lasciamo stare quelli che sono in retroscena. Io so che io, la Ministra Bonetti, il mio gruppo, sia la Camera che il Senato, ecco siamo impegnati magari anche combattendo come ho fatto sulla tassa sulla plastica, come ho fatto sulla tassa sullo zucchero, come ho fatto quando ho rivendicato che l'agricoltura dovesse tornare al centro dell'agenda del Paese e anche in una situazione di ristrettezza economica. 600 milioni di euro devono andare al settore agroalimentare perché è un settore dove possono generarsi opportunità di lavoro. Noi abbiamo fatto questo per aiutare il governo a fare meglio perché se siamo quelli che hanno determinato di fatto la nascita del governo rivendichiamo il diritto di dare il nostro contributo per avere un'azione di governo più qualificata e anche più incisiva rispetto ai problemi che dobbiamo risolvere.